Come essere. Purtroppo il mio cane è morto. Commento. Noi giustamente lo chiamiamo cane perché si chiama così, ma è un'entità incarnata che ha avuto bisogno di quella matrice ancora poco evoluta come essere. Quello che è stato il tuo cane sceglierà la prossima incarnazione, facendo un altro passo nel progresso evolutivo. Forse sarà pronto per incarnarsi in un animale più vicino alla forma umana, una scimmia per esempio. Già noi umani assimiliamo al nostro modo di vivere molti nostri amici a quattro zampe, anche se se noi fossimo cani non avremmo piacere ad essere castrati. Grazie.